Allora fai una volta Ahooo, il pinsale sul piatto? Quindi Jeans Pijama T-shirt Compute Ah, un'altra maglietta Ah, un'altra maglietta One, two, three I do 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 Questa è un'altra? Questa è un'altra? Si, c'è popolarina e qualcos'altro. Se bagna. Poi sei inutato. Stiamo andando a Roma, siamo a Sondrio e stiamo andando in quel castello che si chiama Masegra. Non sapevo dove sono le indicazioni quindi seguiremo la strada così a caso. Vedremo come andrà. Bedroom. Bagno. Cucina. Thomas. Ma c'è anche il balcon. Mamma. Balcone. Che bello. Con la montagna. Ciao. 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 Ciao.